Restrizioni più severe e zona rossa rafforzata non rallentano l'avanzata della pandemia in Puglia. La curva dei contagi punta ancora verso l'alto, come conferma il bollettino epidemiologico regionale, che segnala per oggi, giovedì 8 aprile, 1974 nuovi casi accertati sulla base di 14.895 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 13,2% rispetto all'8,2 di ieri. Dei contagi odierni, 809 si riferiscono alla provincia di Bari, la più colpita, seguita da quella di Taranto, con 323, e dalla BAT, dove oggi si segnalano 249 casi, uno dei dati più alti mai registrati nella sesta provincia in questa ondata. Sono invece rispettivamente 198, 197 e 194 le nuove positività rilevate nei territori di Foggia, Lecce e Brindisi, ai quali si aggiungono quattro casi di provenienza non nota. La somma dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria tocca così quota 205.576. Sempre più drammatico il bilancio dei decessi, con altri 51 morti in 24 ore, 14 nel Barese, 13 nel Leccese, 12 nel Tarantino e poi 5 nella provincia di Foggia, 4 nella terra di Brindisi e 3 nella BAT, che portano il totale delle vittime pugliesi del virus a 5.095. In crescita rispetto a ieri il dato relativo agli attuali positivi, che sono in tutto 50.755, mentre scende, fortunatamente, seppur di poco, il numero dei pazienti in ospedale. I ricoverati sono oggi 2.276, una ventina meno di un giorno fa, di cui 256 in terapia intensiva. Nuovo deciso balzo in avanti, infine, dei guariti, che salgono a 149.726. I pugliesi, che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore, sono quasi 1.900. Questo è un evento. Grazie a tutti.